il napoli pizza village anima la mostra d'oltremare della capitale partenopea registrando enorme gradimento di pubblico con i suoi appuntamenti tematici che animano il quartiere fieristico della città nei primi giorni grande spazio dedicato a degustazioni di impasti della pizza tradizionali non e naturalmente alla grande musica che ospita i personaggi più ambiti del momento ingresso gratuito con accesso libero al villaggio della pizza e dunque gli spettacoli con possibilità di acquistare all'interno il ticket per il menù fisso nella sua undicesima edizione la kermesse garantisce appuntamenti tematici con la terrazza pizza tales luogo in cui si discute in merito all'evoluzione enogastronomica e culturale della città con stakeholder di livello confermando così l'interesse dei cittadini degli addetti ai lavori per l'approfondimento sul tema attesi grandi ospiti musicali fino al 25 giugno per quanto concerne invece i biglietti del pizza village a napoli sarà possibile acquistarli anche online sul sito della manifestazione ingresso a viale kennedy